Non ci sono dei sindacati internazionali perché gli youtubers non sono rappresentati se non da persone, da esseri umani, alcuni hanno degli studi legali i quali ovviamente vanno a contrattare minacciando di andarsene, di smontare, di ritirare tutto quanto, però stiamo parlando di quelli che hanno già avuto 10 milioni, 20 milioni, 50 milioni eccetera 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 o che hanno generato delle ricadute industriali, cioè hanno creato dei prodotti che hanno interessato altre industrie e quindi allora bisogna tenerli dentro, farli stare dentro e accontentarli. Certo qua la situazione non sarà facile perché c'è un muro di gomma organizzato, incredibile, io ho visto che ci sono delle risposte che sembrano programmate sia da parte dei manager di YouTube che purtroppo da parte di quelli i quali dovrebbero in grande trasparenza sentirsi dentro una comunità e dire delle cose che vanno a vantaggio dei membri della comunità e invece si censurano perché evidentemente c'è qualche clausola che dice se voi rivelate il gioco, il giocatore. La clausola c'è il contratto di AdSense che dice che non possono rivelare pubblicamente allora c'è un not disclosure agreement si chiama che ovviamente è come siamo tornati al confessionale cioè tu parla solo con me e io non dirò a nessuno che cosa mi dirai, accettare una cosa di questo genere e sentirsi uno YouTuber del terzo millennio è un po' una contraddizione perché la caratteristica iniziale è quella della grande trasparenza e del libero scambio nella comunità. se tu scambi tutto a meno che le informazioni economiche significa che qualcuno ti ha vasectomizzato cioè ti hanno tagliato una parte fondamentale. Senti ma questi eventi di YouTube secondo te sono un modo per aiutare i giovani a trovare nuove prospettive di lavoro e di successo o sono un meccanismo di recruiting studiato a YouTube per attirare sempre più contenuti? in ogni azione complessa come questa è una grande azione complessa ci sono molte componenti sicuramente YouTube è una delle manifestazioni di grandissimo interesse perché consente ai talenti di manifestarsi questo è il punto perché prima un talento per manifestarsi e essere riconosciuto doveva andare attraverso una gerarchia lungo quella gerarchia ti dicevano di che partito sei, vieni a casa mia che facciamo delle cose segrete questo modificalo eccetera oggi non è più così e questo è un enorme vantaggio cioè uno arriva, si manifesta e può incontrare però quello che non è poi un vantaggio è che questa cosa non può avvenire per contrattazione testa a testa per cui tu diventi un nuovo ostaggio nelle mani di Google YouTube questa cosa deve essere relativa a tutti quelli che hanno un accesso tutti quelli che sono YouTubers devono sapere che il loro valore una volta che lo raggiungeranno sarà quello, non sarà oggetto di futuro negoziato, firmi qua, no disclosure no, il mio inserzionista non ama ciò che dice per cui la paghiamo di meno invece lei è favorevole al nostro inserzionista, la paghiamo di più perché se no così riproduciamo un sistema nefasto che è quello dei media globalizzati che questa volta si è impadronita, il sistema dei media si è impadronito di una community che rappresenta la parte più evoluta del pianeta ogni volta che tu spingi qua non è che lo fai come respirando c'è una tradizione, ci sono delle conoscenze tecnologiche ogni volta che vuoi diventare migliore devi andare a comprarti il nuovo oggetto cioè tu con YouTube sostieni una macroindustria che è la macroindustria della contemporaneità cioè i costruttori di apparati di produzione digitalizzata quelli che ti consentono il trasferimento utilizzando lettere i costruttori di schermi, i costruttori di computer eccetera 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 tutti questi adorano YouTube perché senza YouTube tornerebbero a 5 anni fa cioè con delle rendite molto più basse e allora tutto questo va riconosciuto cioè se la community è il contenuto nella sua manifestazione qualcuno lo deve pagare allora chi è interessato? I pubblicitari? Pagli dai pubblicitari tu non sai quanto perché non pagano te i pubblicitari pagano i proprietari del medium i quali a te ti lasciano capire delle briciole senza neanche dirti quanto perché se avrai delle briciole sarà oggetto di contrattazione tra me e te in un tavolo di Milano in cui tu non potrai dire ma veramente io c'è un altro che ha preso X, c'è da più uguale poi dicono no, no, a te ti diamo quello che ci passa a pagare a noi questo significa tornare al meglio evo ragazzi a proposito di penalizzazioni perché chi si occupa di editoria online di tipo blog, siti testuali conosce con terrore la penalizzazione di Google di Google e i suoi riflessi sull'account access Google ti può levare dal libro YouTube che fa? questi ragazzi se litigano con YouTube che futuro hanno? uguale noi dopo domani alla Sapienza io questo faccio, faccio anche a professione universitaria, al giornalista e scrivo libri tra cui la storia di YouTube stiamo cercando di discutere con della gente che dovrebbe poi fare le norme i regolamenti e poi il concetto di di bipolo perché libertà e controllo purtroppo sono il bipolo che agisce in vite la libertà non è una cosa che tu vado su YouTube e mi sento libero perché tu tanto sei libero tanto sei controllato tanto più acquisisci diciamo consenso tanto più hai paura di tradire tanto più tu ti mantieni in ostaggio fedele perché c'hai paura che chi ti ha dato quella visibilità te la leva e quel consenso diventa nulla questo è molto importante perché se noi stiamo orientando come sta avvenendo la cultura giovanile all'uso di questi strumenti all'interno di quelle comunità noi stiamo creando tanti talenti potenziali ma anche tanti ostaggi che non riusciamo a sapere come vorranno comportarsi perché il loro rapporto di ostaggio è evidente noi ce ne avevamo quattro nessuno di loro ha voluto dire un numero quindi li hanno terrorizzati sono in ostaggio ma io ho chiesto allora uno a uno che cosa stanno facendo per rendere questo successo e l'indotto economico che ha ripreso sulla loro vita duraturo nessuno di loro mi ha detto cose particolari cioè chi mi ha risposto continua a fare con passione quello che già sto facendo e gli altri hanno detto no niente di particolare tu da grillo parlante che consiglio gli daresti perché loro non sembrano lì per fregare i giovani che stanno qui a aspettare loro sono un po' pedine potrebbero essere allora un attimo che consiglio gli darei? aspettanto chiariamo i livelli di gerarchia una cosa è proprio upper gerarchie google and company Princeton University che fanno i conti sui miliardi di dollari un'altra cosa è la comunità anglo-americana che è nel grande bacino d'utenza ed è molto consapevole una cosa è una comunità diciamolo pure pur appartenendo alla settima economia del pianeta noi abbiamo un bacino linguistico molto ristretto e quindi la nostra contrattualità nei confronti di google e youtube è quasi nulla è quella che è cioè bisognerà verificare qual è perché per il momento è nulla cioè per il momento è welcome on board ok bring everything you want yes welcome 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 tutti dentro non ti ridò nulla io non so come si potrebbe risolvere la questione certo non individualmente la questione ha bisogno di un dibattito dentro youtube degli youtubers affinché ci siano delle manifestazioni che tengano conto ok grazie lei mi dà visibilità ma io le porto degli spettatori dei viewers lei mi deve dare qualche cosa perché così facendo io potrei anche progettare un'attività e anche una quantità di ore lavoro e anche una quantità di conoscenze che tu porti gratis e questo va valutato insomma questo è il cuore del problema io non li biassimo io capisco che questi quattro nel loro profondo dicono no ma insomma posso dirlo posso non dirlo perché dirlo in pubblico lo posso dire in privato circola comunque quello che mi dispiace che mi rattrista è che questo è il segno che è del fatto che il controllo è molto più della libertà quando il controllo diventa eccessivo sulla manifestazione di libertà io mi preoccupo sin dal 68 che stavo a Parigi non ho capito perché adesso devo smettere di preoccuparmi ma quindi Clauco pensa un nuovo sindacalismo una nuova contrattazione collettiva potremmo dire youtubers di tutto il mondo unito oppure devono fare i furbi loro e comportarsi le loro comunità al di fuori di youtube e utilizzare youtube come un sistema di marketing per il loro proprio interesse no allora in alcune aree di attività i musicisti gli sportivi gli scienziati i medici perché youtube non è solo intrattenimento dentro a youtube ci stanno le agenzie dell'ONU la Santa Sede il Ministero degli Interni la Royal British Family ci stanno milioni di video di guerra grazie ai quali sono successe delle cose Israele si è ritirata dal Libano la Casa Bianca ha detto oh maronna mia ma che facciamo questi vedono veramente quello che succede le mamme dei soldati hanno fatto i caroselli intorno al Pentagono perché volevano chiudere i video di guerra questo significa che lì dentro c'è una potenziale dignità allora questa potenziale dignità va utilizzata al meglio quando dici tu quella che sembra una battuta youtubers di tutto il mondo uniamoci senza dubbio youtubers di tutto il mondo uniamoci perché se no verremo travolti dal consiglio di amministrazione di Google tu ce l'ha un canale youtuber? certo è uno dei primi adesso me lo chiuderanno il mio canale si chiama Glauco Benigni come me Glauco Benigni tutto attaccato e poi il sottotitolo è place your bet che significa place your bet è quello che ti dicono i croupier quando vai al casino fai il tuo gioco place your bet qual è il bet in questo caso? la tua faccina il tuo parli qui probabilmente anche le tue reincarnazioni ci mancherebbe acqua io non voglio negare che siamo tutti esseri che vengono da lontano però questa bet quando poi vince quando esce il numero quando porti i viewers deve essere pagata lo devi sapere non è che vai al casino punti e poi oh è uscito il numero mio quanto mi date? ah non vediamo eh non ne parliamo venga qui ehi chi è? non è così gli accordi vanno fatti prima se no il gioco è truccato truccato noi siamo extracomunitari di una comunità maggiore che è il Fernando Sasso e vengono trattati senza avere diritto agli accessi alle stesse opportunità questo è il punto quindi ci trattano e poi trattano come extracomunitari i medi di città ma mi leggo a questo non vediamo un tanto accontentati della visibilità ma che discorso è? è un discorso da sotto sviluppati medievale grazie